Torna la paura degli aghi infetti ad Ostia. Come in un remake di un film degli anni Ottanta, le siringhe rispuntano sotto ai portoni, nei parcheggi e nei giardini pubblici. Se le associazioni del territorio che operano nel campo della tossicodipendenza hanno confermato in più occasioni che il fenomeno sul litorale romano non si sia mai realmente fermato, la differenza sostanziale degli ultimi tempi è che i tossicodipendenti non si nascondono più, ma tornano a drogarsi ovunque, anche in strade molto frequentate come via Corrado del Greco. Da quando questa strada come area di cantiere si è chiusa, tutto ciò che il tossicodipendente poteva fare negli anni Ottanta lo sta rifacendo adesso, quindi lasciando direttamente le proprie siringhe anche intrinse di sangue allo stato di abbandono più completo. Se nell'involontarietà o un bambino o una persona anziana dovesse cadere proprio su uno di questi aghi che noi abbiamo visto lasciati proprio incustoditi oppure addirittura tolti dalla stessa siringa, fa sì che basterebbe poco a una persona per prendersi un'epatite o qualcosa un po' più brutta che noi magari abbiamo lasciato nel dimenticatoio visto che adesso attualmente abbiamo il problema Covid. Mi tocca da vicino perché uno ho dei figli giustamente e uno in particolar modo perché è un figlio anche con disabilità a cui comunque sia piace perché è una talenta della FIDAL e quindi piace magari trovare nell'arco dei venti metri prima di entrare a casa magari un piccolo scatto che a lui comunque fa. Dopo un breve giro di perlustrazione abbiamo contato circa dieci siringhe, qui ce n'è una addirittura con il sangue ancora all'interno, oltretutto in una decina di minuti sono passate almeno tre mamme con il passeggino e un bambino è anche caduto correndo. Qui abbiamo la banca di credito cooperativo che ha addirittura due telecamere sull'area e di un altro negozio qui che vende giustamente attività proprio con telecamere, quindi lavora proprio nel mondo della sicurezza che ne ha due poste allo stesso identico modo. La cosa assurda è che le siringhe maggiormente visibili sono proprio davanti a loro. Questa zona alla sera è completamente lasciata allo sbaraglio, se noi partiamo da via Casana alla sera è tutto buio, perciò non si vede niente. Secondo me il fatto delle siringhe dipende molto dai lavori che sono stati lasciati così, questa strada è lasciata completamente allo sbaraglio, dunque quale terreno fertile migliore per venire qua magari a bucare parecchie coppie giovani, insomma hanno i bambini piccoli, dunque anche questo fatto delle siringhe che ormai sono frequenti qui lungo la strada lascia un po' preoccupare. Qui c'è un sacco da ragazzino, c'è se buca, c'è se cose, purtroppo non c'è un controllo alla sera, però il passaggio di persone qui sul marciapiede sono tanti che collegano le varie palazzine. E alle segnalazioni dei residenti ora si aggiunge anche la nostra, nella speranza che l'area venga bonificata quanto prima e che vengano presi provvedimenti seri per limitare questo fenomeno. Da Ostia per Canale 10, Francesco Ferraro.